L'accoglienza della solidarietà anche a Portici per il sindaco Vincenzo Cuomo tappa alla spiaggia delle Mortelle e poi a quella antistante Villa del Boeuf e all'ex Lido Aurora per offrire sfogliatelli e bagnanti poi alla clinica Bianchi in visita ai degenti infine la casa di riposo per anziani Pio XII per il pranzo di Ferragosto con lui il vice sindaco, due assessori, volontari della protezione civile la Polizia Municipale e la Capitaneria di Porto